Lei mi ha ricordato che ci siamo incontrati a Milano, in una bella festa organizzata dalla Puglia. Io però ero frastornato dal fatto che quella era la mia prima notte con la mia mimmussa, quindi ero talmente preso da lei che non mi ricordavo di Ele Noir. Ah, ecco. Vuoi vederla come era in passato, Ele Noir? Così magari ti rinfreschiamo la memoria. Volentieri, certo. Guarda un po' se te la ricordi. Sì. Eccola qua, Ele Noir. Sì. Te la ricordi? No, francamente no. Perché non riesco a vedere il volto e quindi da quella parte del corpo non riesco a riconoscere tutte le persone che ho incontrato. Allora, guarda che cosa ci ha detto in un confessionale Ele Noir di Tè. Vediamo. A proposito di Attilo, vi conoscevate già nella vita? Ci siamo conosciuti a un evento a Milano. Secondo te lui ti ha riconosciuta? No, per me no. Io ero molto diversa, quindi non mi ha riconosciuto. Poi erano anche un po' di anni fa. Ma quindi quando tu gli dirai che tu eri quella signora lì, secondo te gli piglierà un colpo? Ma io penso proprio di sì. Ma sì ma che grazie il tuo lavoro di Rcon hoor. E dice un po' di anni fa 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 Ma sì ma